18 anni di reclusione, questa la condanna stabilita dal Tribunale di Lago Negro nei confronti del 18enne di origini polacche, Karol Lapenta, per l'omicidio del 17enne italo-peruviano Antonio Alexander Pascuzzo. Secondo il giudice, per le udienze preliminari non ci fu crudeltà o premeditazione nel compiere il delitto. I fatti risalgono al 6 aprile del 2018. La procura invece aveva chiesto l'ergastolo per il giovane macellaio perché avrebbe commesso l'omicidio in maniera cosciente ed efferata. La difesa si è battuta, sostenendo la semi-infermità mentale di Lapenta, ponendo l'attenzione su dettagli che l'avrebbero avallata, diverse le perizie sullo stato di salute del ragazzo. Teatro dell'omicidio, un terreno alle spalle della piscina comunale abbandonata, nei pressi del comune salernitano di Buonabitacolo. Lì Antonio Alexander Pascuzzo è stato colpito con diversi fendenti, arma usata, un coltello, portato via dalla macelleria dove il 18enne faceva l'apprendista. Il corpo senza vita di Pascuzzo fu poi nascosto in un vicino canale. Ve ne è trovato dopo una settimana. Poco dopo Lapenta confessò l'omicidio. Ci eravamo dati appuntamento per acquistare la droga. Lui voleva 500 euro per 50 grammi di hashish. Ero andato sul luogo con l'intenzione di fare quello che ho fatto per avere la droga senza pagarlo. Ho preso il coltello in macelleria e l'ho fatto, ha raccontato il 18enne agli inquirenti.